Allora quest'anno è una pagella Perché Pietro va all'università, ma te vai a lavorare Sicuro? Io sono di molto preoccupato No, ma dobbiamo preoccuparsi o no? No, no Secondo i voti che tu mi hai detto dovresti avere tutti i seti Eh no No, no Quelli veri Però quelli che non mi hai detto No, due sotto Due sotto cosa vuol dire? Tre, quattro, cinque? No, cinque Che tutto è sufficiente e due, cinque Vatterita e Simone, insomma lo vuoi dare, dai Dalla al babbo E ti do la sedere Anna, dai Allora, vediamo un pochino ne stanno Di chi è? Simone Allora, italiano cinque Dai, pensavo quattro Sì, chiaro Storia sei Lingua straniera e inglese sei Tetesco sei Matematica sei Diritto ed economia sei Penza e terra e biologia sei Chimica sei Psicologia e scuola dell'educazione sette Scienze motori e sportive otto Religione sufficiente Beh, beh, beh Fai casino Perché fa casino Quei c'hai la metodologia Che devi studervi tu Comportamento Guardiamo Di passata la mia è più bella Bene, dai Dai un colpo di reni e arrivi alla media del sette Del sette Non era di margherisi Non era di margherisi No Non era di margherisi Non era di margherisi Per come Per come Qua Qua